aprire un canale verde che dalla stazione entra dentro la città per avere in locazione il nostro capo sociale abbiamo dovuto insomma battagliare parecchio però tutto partì il giorno in cui visto attaccato alla porta un cartello con scritto chiuso allora lì ci siamo un attimo accesi e abbiamo detto beh questa è un'occasione in qualche modo vorremmo semplicemente accenderla e provare a cambiare un po' le caratteristiche di questo luogo come? pulendolo quando a seguito dell'alluvione famoso storico del 94 la linea è stata interrotta il tratto interessante che corrisponderebbe a questo polmone verde è circa un chilometro ed è da qui fino al bocco della galleria tra l'altro questi edifici l'hanno ospitato senza fissa dimora nel corso degli anni un'importante casa di riposo della città che proprio dà su questo binario di smesso quindi accanto alla casa di riposo c'è anche l'asilo comunale, l'asilo nido comunale quindi queste sono tutte aree che si possono aprire, che possono essere a disposizione della comunità noi per la seconda volta beneficeremmo di un sostegno della compagnia di San Paolo che si è dimostrata attenta verso tutti questi spazi come il nostro che svolgono una funzione di aggregazione civica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti